Buongiorno amici di Vivene Prati, oggi vi volevo presentare un nuovo immobile che ci è entrato in vendita, siamo su Circo Invalazione Clodia, per intenderci quasi all'altezza dello Stato Olimpico, qui abbiamo la parte dello Stato Olimpico e si tratta di un locale commerciale con due vetrine su strada, su due livelli, quindi un piano terra e un sottonegozio, completa la proprietà, anche un soppalco, adesso ve lo faccio vedere, andiamo. Queste sono le due vetrine, come vedete la via è molto percorsa, tratticata, è una via di alto scorrimento e questo appunto è il nostro locale, sono due vetrine, quindi volendo anche divisibile, è in buone condizioni generali, un po' sport, quello sì, però ci sono serrande elettriche, c'è il condizionatore, c'è una cassaforte, perché recentemente l'inquilino aveva montato, l'impianto elettrico è stato rifatto ed ha anche il certificato a norma, quindi questa è l'area vendita, qua abbiamo questo soppalco, una parte comoda, con le finestre sul cortino interno, una e un altro nero spazio qui, un altro ambiente qui. In più c'è la parte di sotto che adesso vi porto a vedere. Adesso andiamo a vedere il piano sotto, si scende questa rampa, purtroppo non c'è la luce elettrica, quindi non è attivato, comunque qui abbiamo questo ambiente con un bagno e la particolarità di questo locale è che ha una porta, un ingresso dal condominio, quindi volendo uno potrebbe anche pensare di dividerlo, quindi un immobile indipendente che entra dal condominio, il piano di sotto, mentre il piano di sopra che ha le sue due vetrine su strada. Grazie.